Allora, cerchiamo di fare silenzio e ascoltiamo come ci sentiamo dentro. Chip, prego, dite. Ho perso il lavoro e questa cosa mi crea una discreta quantità di ansia. Clara, lo trova divertente? Beh, ho perso il lavoro per quattro giorni che si asciuga tutto, noi ci riposiamo, direi che è più un sollievo. Ma pensa a te. C'è tre anni che sei qua non riesci neanche a star seduta nel cerchio. Scusa, che c'entra? C'entra, c'entra, c'entra! Sto parola dura, sto parola dura! Diego, la vedo nervoso, arrabbiato. Lasciamo stare, ma... Ma vede, se lasciassimo stare noi non ci renderemmo conto che qui hanno tutti qualcosa da perdere. No. C'è chi non ha nulla da perdere perché non ha proprio niente. Non ha. E invece si sbaglia, perché in quel laboratorio tutti hanno qualcosa di importante. Tipo cosa? Per esempio loro stessi, la possibilità di fare qualcosa di diverso, di personale, di condiviso. Sostanzialmente tutto. E poi? Fete bene? ... ... Grazie a tutti.